Se fino agli anni 90 quella carnascialesca era una vera e propria tradizione, un appuntamento fisso al quale nessuno poteva mancare, con i carri infiorati, i fiore all'occhiello della manifestazione, da circa un decennio i paternesi soffrono l'assenza dello storico carnevale, rimpiazzato anche quest'anno da eventi di tono minore che l'amministrazione sta predisponendo quando manca poco più di una settimana dai giorni di carnevale e che dunque possono rappresentare soltanto un palliativo. È ormai troppo tardi per organizzare un carnevale in grande stile, quello che i paternesi erano abituati a vivere è ricordato dalla città metropolitana di Catania per i carri e i gruppi mascherati che in passato sfilavano per le vie principali. Non c'è più tempo per organizzare gruppi e carri, per un altro anno ancora i celebri mastri paternesi rimarranno a riposo, la tradizione deve ancora aspettare.